Buongiorno a tutti, è stato richiesto da parte delle rappresentanti sindacali del Senato se potessi, diciamo, parlare e spiegare un po' le ragioni che hanno solo due rappresentanti quindi se lo rappresentano se è possibile, in questo modo, nel lato della facoltà. Allora, va bene, mettiamo quindi sempre una questione universitaria del capo, quindi non hanno ascoltato le mie parole gli amici, mettiamo in situazione la consigliere di far papare i due rappresentanti dei nostri sindacali, il Banca ci ha identificato una scuola, il nome genaco, il progetto che è già chiesto, e l'altro, ha detto che è l'altro, perché è il sabatole, il cognome, il matriciano, il matriciano, il matriciano, il matriciano, perfetto, allora, io vi do l'amora di esprimersi sulla consigliare per far intervenire questi più rappresentanti movimenti, chi è favorevole alta la mano, chi è contrario, falsa qualità, grazie a tutti